L'assessorato Legalità, Sicurezza e Migrazione della Regione Campania attraverso l'Ufficio del Federalismo ha finanziato con il contributo fino al 70% 54 progetti finalizzati al rafforzamento strutturale della Polizia Locale per un valore di 1.300.000 euro destinati ai comuni singoli e associati. I progetti riguardano le dotazioni di autovetture, motociclette per la Polizia locale, biciclette con pedalata assistita e droni, nonché attrezzature informatiche. 13 progetti riguardano l'approntamento e l'implementazione di centrali operative di polizia. Il governo regionale, ha dichiarato l'assessore Mario Morcone, ha proposto nel bilancio di previsione un ulteriore stanziamento per il possibile ulteriore scorrimento della graduatoria e quindi per il finanziamento di ulteriori progetti.